Un amico per Olaf Anna ed Elsa sono emozionate. Stasera ci sarà un gran ballo in loro onore e tutti i sudditi sono invitati. Anna prepara i dolci, mentre Elsa si dedica alle sculture di ghiaccio. Sono felice che a Darendel sia tornata la serenità, dice Anna a Elsa. In quel momento Gerda entra con un grande vaso. Servirebbero dei fiori, suggerisce la governante. Anna ha subito un'idea. Lei ed Elsa potrebbero andare a raccoglierli sulle montagne. Elsa è entusiasta del programma e Anna è contenta perché sa già che insieme si divertiranno un mondo. Le due sorelle escono dal castello e incontrano Olaf che corre il loro incontro con un mazzo di fiori. Vieni con noi a raccoglierne altri, propone Anna. Olaf non se lo fa ripetere due volte e poco dopo i tre amici raggiungono un bel prato innevato dove sono sbocciati tanti fiori lilla. Mentre Elsa e Olaf si divertono a intrecciare Ghirlande, Anna inizia a lanciare palle di neve e... Puff! La neve soffice colpisce Elsa, sporcandole i capelli e il viso. Ah ah sei così buffa! esclama Anna divertita. Poco dopo il gruppetto parte alla ricerca di altri fiori e passa davanti all'emporio di Oaken. Dai entriamo! insiste Anna tirando Elsa per il braccio. Oaken mostra alle sorelle un paio di racchette da neve. Oggi tutti gli articoli invernali sono scontati, spiega. Anna si lascia convincere ed esce dal negozio con una slitta e altre attrezzature da neve. Ci torneranno utili prima o poi, commenta. Guardate! esclama Olaf proprio in quel momento, correndo verso un prato verde pieno di fiori. Non sono meravigliosi? Le sorelle iniziano subito a raccoglierli, senza accorgersi che il pupazzo di neve si distrae per inseguire un'ape. Saltellando qua e là, Olaf arriva proprio sul ciglio di un precipizio. Attento! grida Elsa usando la sua magia per fermarlo prima che cada. Ma ecco che il pupazzo di neve vede un cucciolo di renna rimasto intrappolato proprio sotto di loro. Ci penso io! esclama Elsa creando uno scivolo di ghiaccio che scende lungo la parete rocciosa. Il cucciolo prova ad arrampicarsi ma... Il ghiaccio è troppo scivoloso e gli fa fare un capitombolo. Anna non perde tempo e scivola giù dalla rampa portando con sé tutti gli oggetti acquistati da Oaken. Poi lega le racchette da neve agli zoccoli del piccolo e gli avvolge una corda intorno alla pancia, mentre Elsa tira forte e... In men che non si dica il cucciolo è salvo. Visto? L'attrezzatura invernale ci è tornata utile. Nota Anna mentre la renna ringrazia Olaf a modo suo. Ora useremo anche la slitta replica Elsa, creando una lunga discesa innevata che li conduce al castello. Il magico scivolo termina proprio all'interno della sala da ballo. Anna, Elsa e Olaf fanno il loro ingresso sulla slitta, lanciando i fiori in aria e salutando gli invitati. La piccola renna li accompagna allegramente e tutti applaudono entusiasti. È giunto il momento di ballare e divertirsi insieme. Anna ed Elsa prendono per mano Olaf e aprono le danze con un girotondo spensierato. Che giornata indimenticabile, soprattutto per la piccola renna che da oggi è un nuovo amico con cui giocare e divertirsi. Olaf Fine